Musica Ho fatto venire qui, ho invitato questa ragazza, ha 16 anni e quindi lei quando viene deve venire con la mamma perché è minorente perché questa ragazzina, questa bambina è già senior tester all'MIT di Boston e fa la maker, quindi lei conosce il linguaggio dei robot, dei computer e si occupa di questa cosa. Perché me la voglio far conoscere? Farà un piccolo seminario ma perché come dice il dottor Angela è un esempio di come rinvocandosi le maniche e mettendo tanta voglia e tanto studio si può affrontare un futuro che è difficile, perché è vero, il futuro è molto difficile però abbiamo avuto fino a oggi come essere umani e abbiamo, perché abbiamo degli esempi ancora oggi, la possibilità di gestirlo e di gestirlo bene è tutto nelle nostre mani, è tutto nelle vostre mani non arrendetevi però eh grazie 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 a tutti.